Perché se stanno succedendo tutte queste cose è perché la cattiva politica è sempre figlia di cattiva cultura. Posso fare una citazione che non si dovrebbe fare, perché è una citazione del comandante Castro che diceva «Il nino che noi studia non è su un buon rivoluzionario». Grazie per la visione!